Questi sono le migliori alberi idrauliche, muri a secco, ferro zincato, questo è fra 50 anni, resiste, praticamente questi qua vengono caricate, sono della lunghezza di 2 metri, 2 metri, forzeranno 2 metri cubi, quindi uno di questi qua dovrebbe pesare 40 quintali, quindi 2, 4, 6, questo resiste nel tempo, non frana, rimane stabile, guardate, sono le migliori opere idrauliche, queste vengono messe soprattutto agli argini dei terreni che sbottano o delle canalizzazioni, cerchiamo a Colle Lungo, in bonte in bonte a circa 2 km, facciamo un po' in grandiere, si vede il campanile.